Noi prendiamo dagli appalti pubblici, agli aeroporti, alle varie aziende, alle varie ditte, anche i piccoli privati che abbiano solo un piccolo terrazzino da addobbare, da piantumare, da schermare. Nel corso degli anni ci siamo specializzati in tagli d'erba dei campi sportivi, in tagli di piante anche ad alto fusto perché siamo attrezzati con delle piattaforme aeree, arriviamo fino ai 40 metri senza problemi, nonché agli impianti di irrigazione automatici, manuali, addirittura adesso li facciamo in un sistema che si possono gestire con il telefonino, visto che il telefonino adesso è diventato un mezzo alla portata di tutti, dai piccoli terrazzi ai grandi spazi tipo campi sportivi, campi da rugby e via dicendo. Grazie per la visione!